L'architetto e l'oracolo è un titolo un po' strano per un libro. Il libro affronta un tema che mi sembra in questo momento di enorme interesse, che è quello del rapporto tra un modello tradizionale di uso di contenuti online, anche di organizzazione del sapere, delle conoscenze in rete, un modello che è quello tradizionale enciclopedico, della descrizione, del tentativo di costruire conoscenza in forma organizzata. In fondo è il modello che è dietro Wikipedia, che riprende l'idea tradizionale di un'enciclopedia, anche se in forme estremamente innovative. E' quello che invece è il nuovo paradigma dell'intelligenza artificiale generativa, che non funziona più in maniera sistematica, organizzata, ma funziona in maniera statistico-probabilistica. Il libro prova a spiegare un po' meglio anche questo secondo modello, da dove viene fuori, come funziona, e poi inquadra un po' il discorso, dando uno sguardo anche a un tema specifico che è quello delle nostre memorie personali, in che modo l'organizzazione delle nostre memorie personali, le mail, le mille fotografie che conserviamo, cambia con questi nuovi paradigmi di organizzazione dei contenuti, e dando anche uno sguardo al futuro in maniera un po' ardita, con un'incursione nel campo della fantascienza, andando a vedere alcuni esempi in cui questi stessi temi sono trattati in opere di fantascienza.